salve a tutti ragazzi benvenuti e bentornati sul canale oggi siamo qui con una guida speciale al modulo 4 3 3 4 è un modulo che non viene usato molto nel competitivo anche se nell'ultimo evento io ho visto che veniva utilizzato parecchio è un modulo che ha delle regole delle regole che sono centrocampisti uno sicuro deve avere un workhead di medio alto alto si parla per difesa e l'altro deve sapere far tutto far tutto coppia consigliata per esempio si so co cante de jong cante secondo me sarebbe il top questo è molto importante perché si lavora molto con i centrocampisti cosa molto più importante il fulcro di questo modulo il trequartista trequartista che deve avere per forza dico per forza 84 più di passaggio per forza è ottimo dribbling stiamo parlando di 87 88 più di dribbling velocità importante più o meno l'importante che abbia più di 77 75 di velocità se utilizzato come trequartista puro si ha più di 80 top io vi consiglio di bala vi consiglio dei bruin messi nei top oppure sonno questo sonno è davvero uguale questo modulo è incentrato molto sul possesso verticalizzazioni e uno contro uno con gli esterni esterni doveva avere per forza dico per forza 89 più di velocità 88 saper rientrare e scaricare un buon tiro e saper mettere buoni cross in questo caso la mia rosa non è con questa con questo modulo per vi posso dire che hazard e sala per esempio sono molto consigliati sarà sicuramente hazard da imparare un può usare però sala ma ne è comunque gente che quando rientra sul suo piede forte faccia i buchi passiamo alle tattiche allora io consiglio per questo modulo equilibrata ampiezza 5 fondita 455 niente di più giocato in aria potete anche scendere un po è un modulo dove dovete far girare la palla verticalizzare capire un po come muovervi non è facile non è facile è una specie di variante le 4 2 3 1 perché comunque c'è trequartista ci sono i due cittrocampisti e le ali vengono utilizzate un po per puntare andare ha delle regole ripeto perché trequartista non può essere una bamiang deve essere uno con i piedi buoni e uno che passa gioco potremo azzardare un possesso palla però vi dico vi serve solamente quando magari siete in vantaggio e volete avere sempre l'appoggio sicuro perché come vedete allunga la costruzione manovra però vi da molte soluzioni di passaggio si potrebbe anche provare una cosa del genere io vi consiglio equilibrata così molto semplice l'ho provato più di volte è la tattica che mi sono con cui mi sono trovato meglio le istruzioni ronaldo l'appunto ovviamente chi avete rimani centrali si dice le spalle potete azzardare voi rimane in avanti se volete se magari non ha molta resistenza le due i due esterni possiamo mettere taglia dentro inserisci delle spalle tra le dettagli inserisci delle spalle questo perché gioca largo sta andando un po non un po nel fatto secondo me non si trovano meglio e due cittrocampisti resta dietro in attacco resta limite copertura al centro e i nostri terzini resta dietro soprapponiti è un modulo ripeto che ha delle regole per forza dovete avere per forza dei cittrocampisti che sappiano uno sicuro che deve sapere difendere basta cante allan per esempio è uno che sappia fare tutto in questo caso io guardo le dei young che sanno entrambi difendere bene dei young appunto un po l'uomo non ha molto tiro però in caso in ripartenza è molto veloce e la punta deve essere molto 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 tecnica e veloce se no se non è tecnica almeno che abbia velocità il tiro i passaggi li deve dare i trequartisti trequartisti ripeto per uno di questa squadra di bala di bruin son messi nei mar chi ci volete mettere importante che sia rapido agile e abbia passaggio è un modulo che secondo me costa tanto giocare con questo modulo costa perché devi per farlo girare bene devi utilizzare dei giocatori che comunque costano e quelli che costano meno secondo me non rendono in questo modulo beh ragazzi il video finisce qua vi invito a lasciare un like iscrivetevi al canale noi ci vediamo presto con altre varianti del 433 2 e il 433 normale i premi della weekend league e la sintesi della mia weekend league con mia squadra da 3 milioni con cristiano ronaldo noi ci vediamo presto ciao a tutti ragazzi bello